Nei locali del circolo di compagnia di Canicattì, in Corso Umberto, un importante convegno organizzato dalla Proloco. Oggi si parlerà del Natale a Canicattì, della storia del Natale a Canicattì e a parlarce nello storico il professor Gaetano Augello. Quindi, tra storia e aneddoti, cosa devono sapere i canicattinesi sulla nostra tradizione natalizia? Indubbiamente noi abbiamo una forte tradizione relativa alle festività di Natale, quindi ci sono tanti aneddoti, tanti personaggi di cui possiamo parlare. E man mano uno acquisisce anche delle notizie. Stamattina, per esempio, ho avuto il piacere di andare a visitare il presepe organizzato dal signor Giuseppe Tardino e ho accompagnato una classe di ragazze dell'Istituto delle Suore Vocazioniste. Anche perché c'è un mio nipote, per questo ci sono andato. E ho dato al signor Tardino una notizia che gli ha fatto piacere e che lui non sapeva. Tra gli organizzatori, i primi organizzatori della festa del Rizzerre, c'era un Giuseppe Tardino. Infatti gli ho detto si informi per vedere se è un suo parente. Perché la festa fu organizzata da un certo Luigi Antinoro, il quale era stato militare e nel 1870 gli avevano regalato una raffigurazione dei remaggi. E lui la portò a Canicattia e poi disse perché non fare una rappresentazione sui remaggi. Ed ebbe la collaborazione di alcuni personaggi di Borgalino, uno si chiamava Nuzio Lobrutto, uno appunto Giuseppe Tardino e altri tre fratelli, Giuseppe Francesco e Russo, che lavoravano in quel quartiere per ferrare i cavalli. Quindi hanno organizzato questa festa ed ebbero la collaborazione di un prete che si chiamava Francesco De Caro, in desoluparrino canazzo, canazzo non significa assolutamente cano, cioè dal colore paonazzo. E realizzarono la prima festa del Rizzerre. Poi abbiamo tutta una serie di aneddoti. Un'altra cosa per esempio particolare, proprio anticamente, quindi siamo nel Cinquecento, nel Seicento addirittura, una delle caratteristiche della festa del Natale a Canicattia, sai qual era? Che la notte di Natale, nella gradinata della Chiesa Madre, bruciavano un tronco di albero. Perché? Perché? E non si sa perché. È una tradizione che hanno portato a Canicattia i taorminesi, perché Canicattia fu fondata all'inizio da coloni di Taormina. Perché Canicattia come patrono San Mangrazio? Perché era vescovo di Taormina. Quindi i taorminesi, venendo a Canicattia, portarono il loro patrono San Mangrazio e inserirono questa tradizione che bruciavano un tronco di albero nella notte di Natale. E poi c'è tutta un'altra serie di raccolti, di aneddoti, le tradizioni che purtroppo ormai vanno scomparendo. Prima, per esempio, nel periodo natalizio, l'8 dicembre, c'era la processione dell'Immacolata. L'Immacolata andava alla Chiesa Madre. Poi per Natale c'era la processione dell'Immacolata con Gesù Bambino che si trova alla Chiesa Madre. E a sera poi Gesù Bambino tornava alla Chiesa Madre, mentre l'Immacolata andava a San Domenico. Per Capodanno poi c'era la processione della Madonna di San Francesco con Gesù Bambino di Capodanno che si trova a San Domenico, che è chiamato il Bambino Rosso, non che fosse comunista, ma perché indossava ogni anno un vestitino rosso. Un vestitino rosso che faceva preparare il barone la Lombia. C'è una somiglianza anche col Bambino Gesù di Praga. Però, mentre il Bambino Gesù di Canichetti indossava solo una veste per tutto l'anno, sempre rossa, invece il Bambino di Praga ne aveva 46 vestiti di colore diverso. E anche questa vicenda del Bambino di Praga, del Bambino Rosso di Capodanno, è legata, per esempio, alla figura del barone la Lombia, che quando il barone la Lombia nel 59 a Venezia subì un furto di oggetti, eccetera, lui fece un appello televisivo, dicendo restituite questi oggetti sacri, però dovete portarli al monastero delle Cappuccinelle di Palermo. Questo monastero si trovava nella zona dove ora c'è il Teatro Massimo. Per costruire il Teatro Massimo hanno dovuto demolire ben cinque oratori e tre chiese. Una di queste chiese era il monastero delle Cappuccinelle. E qui c'è tutta una storia, tutta una storia particolare. Queste monache, com'è che campavano? Quando moriva una nobile donna, veniva sepolta in quella chiesa, veniva sepolta in quella chiesa e dava una congro offerta al monastero. Con l'introduzione dei cimiteri pubblici, praticamente nessuno poi fu sepolto lì. Quindi le monache cominciarono ad avere problemi. Ad avere problemi e utilizzavano, stavo dicendo sfruttare ma è sbagliato, e utilizzavano la statua di Gesù Bambino e lo mettevano esposto, il Bambino Gesù di Praga, quando avevano bisogno di pane, dicevano che era Gesù panettiere. Quando invece stavano bene, allora lo chiamavano Gesù imperatore. Se nessuno portava offerte al convento, mettevano Gesù Bambino nel parlatorio, girato verso il muro, come punizione. E certo, come punizione. Quindi c'è questo legame. E poi il barone Lallumia è legato alla processione del Bambino Gesù, perché Rosciro Lallumia aveva anche una carica laica, era abate dell'abbazia laicale di Giacchetto, era una specie di vescovo, indossava la mitra, eccetera. Un personaggio è in occasione della processione, lui arrivava e se non arrivava lui in chiesa non partiva la processione. Quindi abbiamo tutta una serie di tradizioni che purtroppo si vanno scomparendo. Ma non è che è colpa del consumismo o altre cose. Secondo me anche il fatto che la religione non è più sentita come prima, quindi porta anche a trascurare queste tradizioni. Però è un peccato perché in queste tradizioni c'è anche la nostra storia. Stamattina che poi i ragazzi dal signor Tardino mi hanno poi fatto delle domande, eccetera, io facevo notare come c'erano i mulini a pietra, quindi la storia dei mulini. E anche questo fa parte della storia della nostra civiltà contadina, quindi è giusto che i ragazzi conoscono queste cose. Quindi dobbiamo noi, per quanto possibile, cercare di rivalutare queste tradizioni. E quindi ritengo che l'attività della Proloco di Canicattì e dell'amico Giancarlo Granate sia un'iniziativa molto bella perché è volta appunto a salvaguardare queste nostre bellissime tradizioni. L'altro storico, il professore Giuseppe Lauricella, parlerà dell'aspetto culinario della tradizione natalizia Canicattì. E non solo, perché noi dobbiamo coniugare sempre tavola e altare, cucina e altare, perché le feste sono tale per festeggiare sia la divinità, ma soprattutto l'individuo festeggia se stesso, perché attraverso la festa, attraverso quella che è tutta la cerimonia, tutto il rito festivo, si conclude sempre a tavola. E questo dimostra che riuscire a coniugare il sacro con il profano è sempre una cosa tipica dell'uomo. In questa occasione che la Proloco sta promuovendo, per la conoscenza del territorio, per la conoscenza delle tradizioni, per riaffermare soprattutto quelli che sono i tratti distintivi della nostra società, del nostro fare parte di un gruppo, di una collettività, è altamente meritorio in quanto oggi le nuove generazioni sconoscono sia per disinteresse loro, ma non tanto per colpa loro, quando per colpa delle generazioni dei genitori, in quanto pensano che parlare delle cose di ieri sia un fatto disdicevole quasi, e quindi ai ragazzi non possa interessare. Invece abbiamo tante esperienze quando i ragazzi vengono avvicinati con le dovute maniere a quelle che sono le tradizioni, la storia del nostro paese, della nostra comunità, si interessano e trovano curiosità che devono essere soddisfatte, che purtroppo spesso i genitori non sono in grado di soddisfare in quanto loro per primi non conoscono la storia, della nostra realtà, del nostro essere canicattinese, del nostro essere siciliano, del nostro essere prodotto di religione. La dottoressa Anna Raitano ha curato l'allestimento della mostra fotografica che racconta le tradizioni del Natale a Canicattì. È stato un lavoro certosino, anche perché avete trovato foto antichissime. Sì, l'associazione Proloco, che è appunto lo scopo principale di valorizzare e promuovere il territorio, quest'anno ha pensato appunto in collaborazione con i soci, ovviamente i volontari, di allestire una mostra fotografica per revocare appunto le tradizioni natalizie della nostra città. Quindi le foto ci sono state gentilmente concesse dagli storici professori Augello, Lauricella, abbiamo anche attinto dal centro documentazione di Canicattì e abbiamo costruito così, in questo modo, un preciso percorso storico sacro partendo appunto dalla festa che, diciamo, tradizionalmente dà il via alle festività natalizie e quindi la festa dell'Immacolata. Il percorso continua poi con foto inerenti alla festa di Santa Lucia e culminano poi ovviamente con il momento più importante, la natività. Infatti è stata allestita una sezione nella quale appunto sono state messe insieme delle foto appunto che rievocano il Natale proprio attraverso l'immagine di Gigi su bambino. Sono foto molto antiche, alcune che ci sono state gentilmente concesse da alcune famiglie di Canicattì e si tratta di riproduzioni anche della fine del Settecento e inizi dell'Ottocento e il percorso della nostra mostra si conclude con il 6 di gennaio contico la festa di Ritriere. Le fotografie sono state scelte in maniera abbastanza accurata, non a caso tutte sono in bianco e nero, mentre invece soltanto le immagini del Bambino Gesù è stato volutamente riprodotto a colori proprio per mettere in risalto l'importanza della Natività, quindi l'importanza del Natale che ovviamente deve rinascere come colore, come luce di speranza che deve rinascere nel cuore di ciascuno di noi. Presidente della Proloco, l'Avvocato Giancarlo Granata, gli appuntamenti sono giunti al termine, è soddisfatto di com'è andata? Sicuramente sì, abbiamo rilanciato quella che era l'idea che fa parte appunto degli scopi dell'Associazione Turistica Proloco, che è quella di riaffermare l'identità e le tradizioni della nostra Canicattì. Oggi diamo conclusione a questo percorso che ovviamente ci verrà impegnati con altre iniziative con il nuovo anno. Devo dire che anche la mostra fotografica è stata molto apprezzata, ha avuto il gradimento dei canicattinesi, in tanti sono venuti a gustare e ad ammirare queste foto che richiamano dei momenti di vita vissuta dai canicattinesi dell'epoca in occasione delle festività natalizie. Il messaggio, oltre a quello dell'affermazione dell'identità locale in un momento di crisi, quale quella che stiamo vivendo, vuole essere anche quello di ripartire dalle tradizioni per dare una visione alla nostra città, una prospettiva e affermare anche l'idea che allora, magari con poco, i canicattinesi riuscivano ad aggregarsi e a onorare le tradizioni. Bisogna ripartire da lì per dare una prospettiva alla nostra città, quindi siamo assolutamente soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti. Grazie. 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 Grazie.